Le fiction, soprattutto quelle storiche ovviamente, prodotte negli ultimi anni, hanno raggiunto una straordinaria qualità e allora possono aiutare a crescere la comprensione del passato utilizzando e avendo come finalità proprio lo scopo della storia, cioè una migliore comprensione del presente e quindi da questo punto di vista questo genere di fiction sta realmente aiutando anche la ricerca storica e infatti non per caso sono oggetto di studio. Certamente Band of Brothers, una serie di dieci puntate prodotte da Tom Hanks e Steven Spielberg con la HBO che racconta le vicende della compagnia Easy, la compagnia di paracadutisti che furono lanciati la notte prima del D-Day, prima dello sbarco in Normandia e dallo sbarco in Francia e in Normandia vivono tutta la Seconda Guerra Mondiale fino a andare a conquistare il nido dell'Aquila di Adolf Hitler vicino a Salisburgo. Sono le vicende quindi di questa compagnia, di questi ragazzi, di questi uomini soldato che vivono tutta la Seconda Guerra Mondiale almeno per quello che riguarda i soldati americani e quindi lo sbarco in Normandia, la conquista del Belgio, dell'Olanda, poi entrano in Germania e vivono realmente la guerra in tutti i suoi aspetti. Questa è una serie che realmente aiuta la comprensione o meglio accresce la comprensione della Seconda Guerra Mondiale e quindi svolge quella funzione che è quella della storia, di comprendere meglio il presente, perché si interroga la serie su tutte le grandi questioni che la storia cerca di affrontare da 70 anni a questa parte e quindi risponde alle grandi domande, perché i ragazzi si arruolavano, ad esempio molti dicono perché pagavano, oltre l'aspetto patriottico, le grandi domande, i tedeschi sapevano di quello che stava succedendo, cioè della Shoah, dei campi di concentramento e poi ancora quanti morti inutili porta una guerra? Insomma le grandi domande della storiografia che trovano una risposta che poi è in realtà un'interpretazione storiografica in questa serie veramente straordinaria che peraltro ricostruisce in modo maniacale, veramente maniacale, gli scenari della Seconda Guerra Mondiale.